dormi dormi è come il titolo lascia presupporre una nina nanna mi sono innamorato di questo brano dal primo momento che l'ho sentito perché subito ho immaginato di poter sussurrare questo brano nell'orecchio di virginia mia figlia la sera prima della letto quindi mi ha colpito da questo punto di vista e mi ha colpito anche per la sorpresa musicale che troviamo a metà del brano quando si sente la melodia della celebre corale della cantata 147 di johan sebastian bach sono rimasto molto sorpreso e quindi mi è piaciuto inserire questo brano nell'album coinvolgendo anche il coro dei bambini di haiti perché idealmente è un po come cantare una nina nanna anche a ciascuno di loro pensando che molti tra questi bambini hanno perso genitori non hanno il babbo non hanno la mamma e hanno vissuto questa esperienza come un momento di grande speranza nella loro vita